Ciao, è da un bel po' che non ci vediamo, da troppo tempo che non ci vediamo e volevo cominciare questo video facendo una premessa io, probabilmente questo sarà il vlog più triste e più serio che andrò a fare su questo canale perché se vi interessa sapere quello che mi è successo in queste settimane se vi interessa sapere del canale Big House in generale allora vi consiglio di ascoltare quello che ho da dire e di guardare questo video fino in fondo se davvero vi interessa di questo canale io volevo iniziare il video con questa breve introduzione, ecco di nuovo, come va vicini di casa? Io sono Big House è un sacco di tempo che non faccio la intro in questo modo ed è un sacco di tempo che non carico video, ragazzi io comunque, se sto facendo questo vlog, questo vlog sarà noiosissimo però mi sentivo in dovere di andare a raccontarvi quello che mi è successo in queste settimane perché Big House è sparito, è morto, perché non sta caricando più video perché è successo qualcosa, Big House sta male i programmi per registrare non funzionano più e quindi non riesce a registrare gameplay niente di tutto questo è un periodo un po' strano per me questo, ragazzi è un periodo in cui sono abbastanza demoralizzato soprattutto nel fare i video e ho problemi, ho problemi nella mia vita privata in generale e ho problemi anche, ho avuto dei leggeri problemi anche con YouTube io volevo cominciare questo discorso andandovi a parlare dell'ultimo video che sono andato a caricare quello su The Joy of Creation, la terza parte quello è stato l'ultimissimo video che ho caricato qualche settimana fa e quando l'ho caricato era già un bel po' di tempo che non aggiornavo il canale quindi quel video, quella continuazione del gameplay di The Joy of Creation era più che altro un modo per dirvi ragazzi, guardate che ci sono ancora è un periodo strano stanno succedendo delle cose però sono vivo, Big House è vivo e volevo dimostrarlo appunto caricando questo video ecco, questo video le visualizzazioni ha ingranato poco la marcia perché a parte YouTube che è un bellissimo sito e non manda le notifiche con il fatto che non caricavo video da tantissimo tempo la gente, ecco, doveva un attimo accorgersi del fatto che ero tornato a caricare video dopo un po' di tempo poi alla fine, vabbè, questo video ha cominciato a fare delle visualizzazioni sono arrivati i mi piace, sono arrivati i vostri commenti però ho notato qualcosa di strano negli ultimi giorni questo video aveva dei sali e scendi nelle visualizzazioni che non mi convincevano particolarmente anche l'analytics non dava dei risultati corretti e questo fenomeno l'ho visto verificarsi solo su quel video era come se YouTube non riuscisse ad aggiornare le visualizzazioni per quel video è come se il counter non riuscisse a mostrare quelle che erano le effettive visualizzazioni a quel video io non lo so che cosa è successo ragazzi o la prima cosa che ho pensato è che fosse un bug di YouTube il che era, cioè, era un pensiero legittimo perché YouTube è pieno di bug di recente si è scoperto questo bug che alcuni video che vengono caricati si frizzano oppure l'audio è fuori sincro e quindi la gente è costretta ad eliminare il suddetto video e a provare a ricaricarlo quando, vabbè, adesso dicono di aver risolto la situazione ma vabbè stiamo preparando un aggiornamento per migliorare l'accuratezza del sistema e le modalità di convalida delle visualizzazioni su YouTube potresti notare delle fluttuazioni del numero di visualizzazioni sul tuo canale e a quanto pare questa cosa sta succedendo dal 30 gennaio però è una cosa che non ho riscontrato negli altri video perché quest'ultimo che ho caricato, sì che dopo una settimana la cosa continuava e questo problema si verificava solo su quel video e non sugli altri gli altri, le statistiche, il mi piace tutto quanto in generale andava avanti tranquillamente le visualizzazioni erano quelle e salivano tranquillamente questo problema si verificava solo su quell'ultimo video che avevo caricato quindi o veramente era per colpa di sta cosa di YouTube o si trattava davvero di un bug oppure la terza ipotesi che mi spaventa terribilmente che si trattasse di qualcuno che cercava di bottare le visualizzazioni perché su YouTube nel 2018 abbiamo a che fare ancora con queste persone e io non vorrei che questo fosse il mio caso non so se si trattava di un bug o meno però questo video ho preferito eliminarlo quindi ragazzi se qualcuno di voi probabilmente si stava chiedendo che fine aveva fatto l'ultimo video su The Joy of Creation l'ho eliminato proprio per per evitare danni di qualsiasi genere al video danni di qualsiasi genere al canale l'ho fatto per paura più che altro non perché avevo la certezza che si trattasse che fosse quello il motivo io non ne so nulla di queste cose è da quattro anni che sono su YouTube ma non ho alcuna esperienza in queste cose in quello che potrebbe succedere perché non ci ho mai avuto a che fare quindi non mi vado neanche ad interessare comunque spero che si trattava soltanto di un bug e non di qualcos'altro io comunque sono andato a cancellare quel video per sicurezza e andrò a ricaricarlo andrò a ricaricarlo a seguito di questo vlog se vi ricordate diversi mesi fa nei miei video più vecchi andavo ad utilizzare spesso la scusa vicini di casa scusatemi se non ho caricato un video da più di una settimana ma ho problemi con il lavoro sono impegnato con il lavoro io praticamente lavoravo dalle 8 del mattino fino alle 7 di sera e tornavo a casa tardissimo quindi l'unica gli unici momenti in cui avevo modo di registrare i video era la sera tardi a parte i weekend e la sera tardi durante la settimana ero stanchissimo quindi avevo problemi a portare più di un video a settimana se non un video ogni due settimane alcune volte ecco da un po' di tempo io questa scusa non posso utilizzarla più perché perché non ho non ho più un lavoro da qualche settimana non volevo neanche parlarne sinceramente ho accennato forse qualcosa in un mio vecchio video e non volevo farci non volevo fare un video e parlare di questa cosa però mi sentivo in dovere di dirvi quello che stava succedendo io adesso non andrò a spiegare i motivi del perché ora sono disoccupato che cosa è successo e perché non è il luogo adatto come dicevo una volta scorsa questo non è il luogo adatto per parlare di queste cose perché comunque riguardano la mia sfera privata io ci tenevo soltanto a dire questa cosa a farvi sapere che in queste settimane psicologicamente non ero in vena di fare video di portare video sul canale perché la mia priorità massima era quella di di cercare una nuova occupazione una nuova opportunità lavorativa insomma quindi in queste settimane ho mandato il mio curriculum in giro a un sacco di aziende ho fatto diversi colloqui quindi ragazzi questo è tutto perché ci tenevo a dirvi queste cose ci tenevo comunque ad essere sincero con voi a dirvi come stanno le cose e spero di tornare di tornare presto appunto quando mi sentirò in vena di fare altri video perché la cosa strana è che i video fare i video mi ha aiutato un sacco durante questi quattro anni fare i video registrarli pubblicarli su youtube leggere i vostri commenti ricevere i mi piace e quant'altro mi mi hanno aiutato tantissimo in momenti tristi difficili della mia vita mi hanno aiutato anche un po' a superarli perché in questi piccoli momenti che che dedicavo me stesso a youtube a caricare il video a leggere i vostri commenti e quant'altro io in quei momenti lasciavo tutti i problemi alle spalle e non ci andavo neanche a pensare in quei momenti stavo bene quindi è un po' un controsenso quello che sto andando a dire ora perché se fare i video ti fa stare così bene perché non ne stai registrando alcuno cioè hai questi problemi hai questo problema qui però registrare qualche video visto che è anche magari un po' più tempo forse potrebbe farti stare bene psicologicamente è comunque un hobby che hai e che vuoi portare avanti però ragazzi questa volta questa volta il problema è ben più serio e e anche se magari in alcune in alcuni momenti della giornata vado sì a giocare a Dead by Daylight o anche ad altre cose io non mi sento ecco non mi senti in questi giorni non mi sentivo proprio in vena di fare video perché non non voglio nel video non voglio sembrare che mi stia sforzando di stare bene comunque io spero che questo video non vi sia piaciuto quindi non lasciate like io vi ringrazio per non esservi disiscritti e ci vediamo alla prossima quando possibile e stay big ci vediamo